Stanco e viene guardato con ammirazione ho ingoiato profonde delusioni periodi lunghissimi di torpore ansia, stress amarezze ho imparato, appreso capito ed accettato ho perduto e vinto tante volte ho creduto ho sperato, ho temuto ho pensato sì, soprattutto ho pensato ma a cosa è servito pensare? che cosa ho tenuto pensando? perché ho pensato se non l'avessi fatto così intensamente forse adesso non sarei stanco